Il 2 agosto 2011, anche in Abruzzo, è stata approvata la legge che prevede l'istituzione dell'ufficio del garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Dopo quattro anni dalla sua approvazione non si è ancora proceduto ad effettuare la nomina. Una trascuranza che stride con le lunghe battaglie effettuate per l'ottenimento di diritti e che sottolinea vuoti burocratici. Oggi Maurizia Cerbo, di Rifondazione Comunista, richiama all'ordine il governo abruzzese e sollecita il rispetto di una legge. Tante persone che molto spesso non hanno la possibilità di difendere i propri diritti. Il garante però da quattro anni non viene nominato. Con questa conferenza stampa ricordiamo alla regione che bisogna procedere alla nomina e bisogna fare il bando e poi siccome la legge prevede che non sia una delle solite nomine spartitorie ma che sia una nomina fatta con una maggioranza qualificata del Consiglio regionale, maggioranza e opposizione si devono mettere d'accordo su un nominativo di alto livello. A sostenere la lotta alla legalità di Cerbo si aggiunge l'esponente dei radicali Vincenzo Di Nanna che parla di candidature ormai ufficiali come quella dell'onorevole Rita Bernardini e di grave inadempienza della regione Abruzzo. La proposta viene proprio da Luciano D'Alfonso quindi lui stesso si è ricordato del fatto che c'è una legge da mesi inapplicata che è la legge istitutiva del garante per i detenuti e propone, Luciano D'Alfonso, presidente della giunta regionale, la nomia, l'elezione di Rita Bernardini a garante per i detenuti. Rita Bernardini, segretario nazionale dei regali italiani, è disponibile con sacrificio sia da un punto di vista personale sia da un punto di vista patrimoniale perché si tratta, è uno di quegli uffici poco appetibili alla partitocrazia, quindi perché si tratta di prendere pochi soldi e lavorare tanto.